Buonasera, benvenuti a questa serata di gioia e di amore. L'anno scorso, mentre ci salutavamo durante questa stessa manifestazione, alla fine tutti ci siamo detti, sarebbe bello rifarlo di nuovo. Ed eccoci qua quest'anno ancora tutti assieme, ancora più uniti, ancora più gioiosi per celebrare questo grande evento. È una grande gioia per me poter introdurre Swami Kriyananda, uno dei pochissimi discepoli diretti di questo grande maestro che è alle mie spalle. I suoi insegnamenti sono stati veramente importanti per la mia vita e spero che saranno anche per voi di grande effetto e di grande importanza, perché toccano il cuore. Buona serata a tutti ed ecco a voi Swami Kriyananda. È per me una gioia essere qui. Non aspettavo veramente che avremmo un altro anniversario del Mahasamadi, il cinquantesimo era importante, 51 non tanto, però sono felicissimo di vedere tanti di voi, di vedere tanti vecchi amici e di poter stare con voi in questi pochi giorni. E sì, è stato per me una benedizione enorme vivere con questo gran maestro. Infatti, per celebrare il suo Mahasamadi, il giorno della sua morte e non soltanto parlare del mio tema di questa sera, io ero lì quella notte, quella sera, quando lui ha dato una conferenza breve per introdurre l'ambasciatore di India, Benai Arshen, si chiamò, e quando lui ha parlato era un momento molto speciale, non soltanto per quello che ha detto, ma per le vibrazioni. Lui stava dicendo anche prima che la mia vita è finita, il mio lavoro è finito e non sapevo io perché io devo andare con lui in India in quell'anno, anche due anni prima, per tre anni in tutto era programmato per me andare con lui in India. E io pensavo che lui, sapendo, pur sapendo che lui doveva lasciare il corpo, pensavo che sarà in India, però era quella sera che ha lasciato il corpo. Era un momento, come voi potete immaginare, molto commovente per me, per molti. E per me è certamente una gioia, ma anche un gran dovere condividere con voi. Il suo messaggio, la sua presenza è quello che lui ha portato alla terra per unire la gente in Dio. Lui non è venuto, e tante volte lo ha detto, non sono venuto per creare un setto. Sono venuto per dimostrare l'unità di tutte le religioni. E questa... c'è un bicchiere di acqua, vorrei, perché ho avuto un po' di mal di gola. Non mal di gola è una cosa che dura due anni adesso. Però è un'infiammazione dai sinus. Spero di poter parlare stasera per tutto questo lungo tempo. Spero che non sarà troppo tempo. Vedremo. E poi, nella sua vita, lui è venuto una volta qualcuno. Io c'ero lì perché spesso lui mi faceva servire gli ospiti quando venivano da lui. Poi mi faceva dimostrare le posizioni di yoga. E poi, dopo che loro sono andati, io e lui ci siamo seduti e abbiamo parlato su tante cose, sulla mia vita di servizio pubblico soprattutto, e altre cose anche. Era molto bello. Un signore che ha visitato era un professore da un'università in New York. L'ha chiesto, ma perché lei parla specialmente del cristianessimo e dell'induismo, quando lei è venuta per unire tutte le religioni? E lui ha risposto perché questa era la volontà di Babaji. Io ho meditato su questo perché non basta dire che Babaji lo voleva. Perché lo voleva? E meditando su questo ho capito che in queste due religioni c'è un seme che dimostrando l'unità tra queste due religioni si capisce come sono tutti uno. non è necessario dire. E io ho visto perché c'è qualcosa nell'area di oggi che dice che non vogliamo vedere tanti setti. Vedi, in America ci sono centenaia, molto più d'Italia. Centenaia, ma cioè quando ero giovane erano trecento. Significa che oggi forse mille? Chissà, non so. Però non basta dire, la gente vedendo questo pensa, ma allora dobbiamo dire un po' di questo, un po' di quello, un po' di quello. Ho visto tanti indiani anche citando le Upanishad, le Veda, la Bibbia, il Coran e tutto. Non basta dire che lui e lui e lui tutti hanno detto le stesse cose. Più importante dimostrare qual è la cosa che hanno detto. Perché una volta che tu capisci questa cosa centrale, tu capisci tutto. Vi do un esempio che una volta, quando cioè, non era una volta, però quando Yogaland è venuto dal suo guru Sri Yukteswar. Sri Yukteswar lo ha messo a studiare gli aforismi di Patanjali. E lui ha passato settimane su una strofa. Yogananda, essendo giovane, era un po' riequieto con questo, volevo andare avanti. Sri Yukteswar ha detto, non hai capito completamente questa strofa. E così, otto mesi hanno passato e non hanno finito otto strofe. Però sai che cosa è successo? Che dopo otto mesi, Sri Yukteswar ha chiuso il libro, ha detto, adesso tu capisci. Il centro del messaggio, qualsiasi scrittura tu apri, tu capirai. Quindi non c'è bisogno di capire come uno studioso, tante piccole cose, che ha detto questo e quello e l'altro. Questo fatica la mente e confonde tutto. Basta dire cose centrali della verità. Un esempio, l'amore. Dio è l'amore. Non c'è veramente bisogno di parlare più di quel fatto. Però Yogananda ha scritto un bel libro che adesso sto riscrivendo e può sembrare una presunzione, però vi spiego che non lo è. Perché non era veramente scritto da lui. Cioè, quando lui è venuto dalla Giappone, aveva qualche idea per come diffondere il suo messaggio al mondo. Però non in quell'epoca, era l'anno 1920, anche prima, non conosceva tanto bene l'inglese. Quindi lui ha scritto un elenco di idee, poi ha dato a uno suo discepoli il compito di scrivere queste cose in inglese. E così era scritto quel libro, La scienza della religione, che era, Yogananda era l'autore, perché l'autore è colui che ha le idee. Però era anche scritto, come diciamo in inglese, un ghostwriter. Lui lo ha scritto usando le idee di Yogananda, mettendone le parole per essere capito nel mondo. Allora, quel libro scritto da lui, veramente non era proprio come avrebbe scritto Yogananda, quando lui è arrivato al punto dove capiva bene e poteva bene scrivere l'inglese. E mi ha sempre piaciuto in un senso quel libro, perché è molto profondo, le idee sono bellissime, però è molto pomposo, è studioso, è secco, è noioso. E conosco tante che mi hanno detto, ma sì, ma non ho potuto leggere quel libro, era troppo pesante. Ma io ho sempre pensato, sarebbe bello rifare, perché è quello che lui ha scritto, è il messaggio centrale della sua missione. E così, ma cosa faccio? Porta quel tavolo qui. Grazie, premi. Era il messaggio centrale della sua missione, grazie. Mi sento un po' come un signore inglese qui. And so... Cosa stavo dicendo? E questo, così, ho cercato di ridire le cose in un modo che è più interessante, più ti accoglie, più ti invita. E' anche più facile da capire, perché sono scrittore, lui non era scrittore. Io sono semplice, lui era troppo studioso. E io posso scrivere in un modo che tutti possano capire. Lui ha scritto, come fanno tanti professori, a posto per farti non capire. E così tu leggi e dici, ah, è profondo, non capisco nemmeno una parola. E così, e sto anche adesso riscrivendo questo libro importantissimo, perché, come ho detto, è il centro del suo messaggio. E lui, in questo, e spero che a voi vi piaccia, so che vi piacerà. Io sono, infatti, molto, non voglio dire eccitato, molto però, sì, ispirato. Sento una grande gioia lavorando su questo e sento anche la sua presenza. E quello che dico è solo suo, non mio. Io sono soltanto l'Amenuensi. Io scrivo soltanto le sue idee mettendo in un linguaggio che è più facile da capire. E tutte le storie, quasi tutte, sono storie che lui raccontava. E lo spirito con il quale lui parlava era sempre così gioioso. Sai che quando lui veniva per fare un discorso, correva sul palcoscenico, con i capelli lunghi dietro di lui. Era sempre pieno di gioia. Questo libro, al paragone con quel fatto, non lo rappresenta. Io ho cercato, sto cercando, perché non è finito ancora, di rappresentarlo e io ho sentito anche la sua presenza nel scrivere. E quello che lui ha detto è soprattutto questo semplice fatto. Che Dio, non basta dire o parlare di Dio come una cosa astratta, che non tocca la vita normale dell'uomo. Che non basta dire che Dio è onnisciente, onnipresente, ogni, 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 tante cose. Lui deve essere caro a tutti noi. Però, sì, è vero parlare di lui come l'amante, l'amico, il più caro di tutto. E' facile, però per l'uomo diciamo normale, ma non voglio dire normale. Noi siamo normali, loro sono anormali. Allora parliamo dell'uomo della strada comune, ordinario. Questo uomo, quando tu parli così, pensa al suo amante umana. Però quello che Yogananda ha spiegato era questo. Lui ha fatto soltanto la semplice domanda. Vedi, la verità è sempre semplice. Ha detto, cosa cerca l'uomo? Ma non soltanto l'uomo. La vita intera, gli animali, tutti cercano due cose. Ed è semplicissimo quando tu affronti questo fatto. Cerchiamo di evitare soffrire la sofferenza. E cerchiamo di trovare la gioia. E' semplicissimo, è verissimo. Noi, cioè, in ogni cosa che cerchiamo, cerchiamo di evitare la sofferenza che appartiene alla illusione del mondiale. E cerchiamo tutti la gioia che veramente non troviamo se non in Dio. E questa è l'illusione. Noi cerchiamo, cerchiamo sempre la stessa cosa e sbagliamo sempre. Perché pensiamo di trovare la gioia nelle cose, nelle altre persone, nei posti belli e tutto, ma sempre esterno di noi. Invece quello che Dio ci offra è noi stessi. Noi siamo creati da Lui. E così Yogananda ha spiegato, e questo non era nel libro originale, ma tante volte. Io ho studiato i suoi insegnamenti per tanti anni, 54 anni adesso. E lui ha parlato sempre di come Dio ha creato l'università. Non era un atto di magia che tu hai un cappello qui, ecco un animale, ecco un topo. No. Lui non aveva queste cose della magia. Non era una predigestitore. Quella parola anche in inglese è molto difficile. Prestigiatore. No. Lui poteva soltanto creare l'universo da se stesso. Non esisteva niente, soltanto Lui. E cosa era Lui? La gioia infinita. Vi do un po' la storia della religione per farvi capire che non è che questi maestri si sono messi uno contro l'altro. Anzi, loro hanno sempre cercato di portare l'umanità allo stesso centro di noi stessi che è la verità dell'eternità. Quando Buddha è nato gli studiosi dicono che Buddha si è messo contro l'induismo contro i veda. No, affatto no. Lui era hindu, infatti, come Gesù era giuteo. Lui voleva soltanto dire non andare a i veda per soltanto, come dicono in India, Karmakand. Non fare così. Non basta cercare di far piacere agli dèi per avere qualche doni da loro regali da loro, possiamo dire. Non cercare Dio per poteri per avere figli, una bella moglie, un bel marito, un bel successo nel mondo. No. C'è un altro movente per tutto ciò che noi viviamo. Cercare la gioia. Così Buddha non voleva parlare di Dio e molti, tutti infatti, buddhisti di oggi pensano e si sbagliono. Pensano che Buddha non credeva in Dio, non era ateo, però non voleva parlare a Dio quando l'importante è quello che tu fai. Tu, te stesso. Non basta che Lui lo fa per te. Lui, tu devi fare. E più tu puoi... Non è che togli il bisogno per la grazia divina, però la grazia divina è come il sole. Il sole, diciamo, brilla su un edificio. Coloro che hanno le tende chiuse non può entrare le camere. E non è che Dio dice no, non voglio entrare in quella camera. Le persone lì nella camera non hanno aperte le loro tendi. però coloro che aprono i tendi il sole può entrare. La grazia di Dio non è una cosa che Dio dice ah, mi piacciono i suoi occhi azzurri allora ti do la grazia. No. Lui dà la grazia a tutti coloro che sono aperti a Lui. Però se un bicchiere di acqua e un altro dice che ho sete però versa sotto sopra il bicchiere o il vaso cosa può fare? Tu devi mettere a posto il vaso per ricevere. Tu devi metterti a posto aperto per ricevere la grazia di Dio. La religione è tutto questo. Non è che noi dobbiamo convincere a Dio di venire e benedirci. Lui vuole. La natura dell'amore è sempre di donarsi. Siamo noi che siamo chiusi. Come una volta Iovenanda ha detto a un discepolo di cambiare qualcosa in se stesso come è il dovere del guru di fare. E così lui ha detto questo e il discepolo ha detto ma vorrei maestro ma è difficile come posso fare senza la tua grazia. Io ho risposto ma vedi la mia grazia è già lì la grazia di Dio è già lì è la tua grazia che ci manca. Tu devi aprirti e questo è solo che Buddha voleva dire non parlare di Dio lui è lì sì però non parlare di lui perché tutti allora in quell'epoca erano troppo dipendente troppo succubo diciamo su quella grazia e nessuno pensava di quello posso fare io per essere degno di ricevere questa grazia e così lui parlava di te stesso di quello che tu devi fare per cambiarti e così i buddisti hanno deciso hanno capito e così fanno tutti i discepoli non capiscono quello che loro guru vogliono dire ogni difficoltà nella religione inizia con i discepoli che non capiscono abbastanza al profondo quello che diceva il guru e così è venuto Swami Shankaracharya dopo alcuni secoli e lui ha spiegato vedi Dio esiste però non è un uomo o forse una donna la madre divina non è quelle cose non ha una forma umana non è un elefante non è non è non ha forma Dio è saccedananda Dio è la gioia la beatitudine eterna e cosciente e questo è quello che tutti cercano e così lui ha risvegliato la fede la fiducia degli indiani nella loro religione e a poco a poco è andato via buddismo da India come una religione particolare perché i semi erano sempre lì nella terra e a poco a poco però i seguaci di Shankaracharya sono diventati molto secchi perché perché lui ha detto tutt'altro è un sogno non esiste e loro pensando che tutto non esiste allora sono diventato così filosofi che mancava l'amore dimenticando che lui anche ha scritto una scrittura sulla madre divina stroffe sulla madre divina una scrittura di devozione però la gente non capendo questo è diventato soltanto piena di questa filosofia che tutto è senza forma senza la dualità tutto è uno tu non esisti io non esisto ma che cosa è certamente noi esistiamo però esistiamo non come sembriamo tu sai che questo corpo che ti sembra così forte così solido veramente è quasi tutto spazio se uno potesse togliere lo spazio da questo corpo diventerebbe così piccolo che probabilmente non sarebbe visibile siamo quasi tutto spazio e anche questo piccolo parte che solido non è solido affatto perché la materia è veramente energia niente esiste come pare ai nostri occhi tutto è diverso però esiste sì come sogno e così i seguaci di Shankaracharya si sono sbagliati uno sì deve prendere sul serio il dovere umano lui anche ha fatto così lui anche accettando per esempio le la reate di questo mondo quando sua mamma stava per morire lui anche se nelle regole dei monaci uno deve rinunciare alla famiglia lui è andato e ha fatto le cerimonie per la morte della sua mamma e anche quando lui era vedi era nato per questo a sei anni immagina a sei anni un piccolo bambino ha detto a sua mamma io devo lasciare la famiglia e cercare la verità e la mamma ha detto ma non andare tu hai soltanto sei anni e lui ha detto mamma io non posso andare senza il tuo permesso però se tu non mi permette vedi che cosa faccio lui si è buttato in un fiume c'era un cocodrille lì lo ha preso ha urlato alla mamma vedi o tu mi lasci andare o io lascio a questo cocodrillo di uccidermi immagino a sei anni e la mamma subito ha detto sì sì vai e con il suo potere ha potuto scappare da quel cocodrillo che un maestro può fare io ho incontrato un maestro sto diviando un po' dal soggetto ma è una storia interessante un altro maestro che ho incontrato in India anni fa e lui quando era aveva dieci anni era un bambino anche lui però anche lui aveva qualche potere era nato con quei poteri e lui andava a nuotare in un laghetto e c'erano cocodrilli lì e loro non hanno mai toccato a lui non aveva paura a lui e quando altri volevano venire lui ha detto vedi prendo questo pezzo di legna e lo butto fuori lo getto così lì dove scende nell'acqua tu puoi nuotare fino a quel punto non più però fino a quel punto sarai sicuro e così loro hanno potuto nuotare con lui quindi questi poteri non non sembra concepibile alla mente moderna ma veramente ho visto tante cose nella mia vita anche vivendo con un gran maestro che per me è una cosa normale comunque quando i suoi seguaci hanno preso i suoi insegnamenti li hanno cambiati in una filosofia troppo secca e perciò stava per morire il cuore e così sono venuti altri Ramanuja e Chaitanya per dire che soltanto nell'amore di Dio tu puoi arrivare alla salvezza Chaitanya ha detto è una frase bengali Horrernam 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 Kevalam soltanto per il nome di Dio nome di Dio nome di Dio soltanto cantare a Dio puoi arrivare a Lui però sai che non basta soltanto cantare con la voce conoscere il nome di Dio veramente significa emergere nel om questo è l'amore il nome di Dio veramente è una cosa molto sottile esoterica che Lui non ha spiegato tutto però vedi che ogni maestro non è venuto come pensano gli studiosi per diffondere una nuova filosofia tutti sono venuti per correggere gli sbagli che hanno introdotto i discepoli i seguaci nella filosofia la filosofia è qui vedi possiamo dare un esempio e questo esempio ho dato anche in questo libro del quale ho parlato se uno è consigliato e se noi tutti che viviamo al nord siamo consigliati di andare all'equatore e allora la coscienza umana essendo com'è quando uno prende sul serio questo insegnamento continuare ad andare al sud e non sa quando passa l'equatore e continua e se quello è lo scopo della vita tutti coloro che sono al sud dell'equatore saranno detto di andare al nord veramente palese però quando tu scendi al sud dell'equatore e incontri altri che stanno vendendo al nord tu dirai no no tu devi andare al sud e loro dicevano no 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 devi andare al nord e così si litigano però non è che la verità cambia è la coscienza umana che cambia la verità è sempre al centro e questo centro è qui in questo corpo tutta la religione è sempre per portati al tuo centro per esempio in ogni religione veramente dice che il cielo è sopra l'inferno è giù e uno vede che non è tanto ben pensato perché le persone per esempio in Australia quello che è su per loro è giù per noi non non parla del del mondo il mondo è rotondo quello che è su è qui 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 no però al rispetto a ogni persona ogni uomo quello che fa scendere fa salire l'energia ti porta nel cielo interno e quando tu senti l'inferno ti porta l'energia ti porta giù e questo è palese in ogni lingua io parlo come nove lingue in ogni lingua che conosco immagino che è vero in tutto il mondo quando uno si sente bene si dice mi sento su mi sento alzato mi sento esaltato mi sento come volendo eccetera e quando non si sente bene tutti dicono mi sento giù è vero no? mi sento pesante l'energia tutte le religioni parlano dell'uomo non di una cosa esterna allora se noi vogliamo creare una unità nella religione dobbiamo capire che questa unità è una cosa interna non è necessario non è nemmeno desiderabile cercare unire le religioni esternamente la chiesa cattolica parla del parla contro il sincretismo sono d'accordissimo con loro non è del sincretismo che parlo io parlo di un punto centrale che è vero per tutti e tutti per esempio tutti vogliono la gioia e così per tornare a questo tema la gioia è Dio questa è la definizione di Shankaracharya noi cerchiamo qualcosa dentro di noi c'è una voce che ci chiama alla gioia però noi vivendo in questo corpo con questi sensi pensiamo che la gioia è qui o lì o lì mi ricordo una storia stavo citando questa storia pochi minuti fa alcuni amici di una donna che è andato da Londra in India all'ashrama di un gran santo del secolo passato volevo dire di questo secolo ma adesso è cambiato le cose in questo senso è andato da lui dal Ramana Maharshi e lei ha detto sono venuto da lontano per visitarla e lui ha risposto ma lei non ha mosso il mondo ha mosso intorno a te noi siamo sempre al centro dell'universo sai quando Copernicus ci ha fatto vedere e capire che il mondo non è il centro dell'universo e poi a poco a poco hanno capito che quanto è piccolo questo mondo quanto è piccolo anche questo sole quanto siamo distanti dal centro di tutto questo sistema che si chiama una galassie in questo tutto grande grande universo di centenaia di miliardi di di universi ognuno con centenaia di miliardi di stelle e sistemi planetari non c'è un centro però la tradizione antica è questo che Dio è centro ovunque e senza nessuna circonferenza tu tu sei il centro dell'universo questo è molto più di quello che ha cercato di cambiare Copernicus ha detto che il mondo non è il centro adesso è capito anche nella scienza sempre più non soltanto il mondo è il centro dell'universo ognuno di noi è il centro se tu vuoi capire tutto cominci a capire te stesso così ha detto San Juan della Croce che così dice in italiano San Juan della Croce e lui era con Santa Teresa d'Avila e lui ha detto se tu vuoi capire tutto capisce te stesso così come ha detto hanno detto i grechi tanti anni fa se tu vuoi avere tutti i poteri hai potere controlli te stesso tutto ciò che cerchiamo è dentro di noi e tu vai allo specchio la mattina e vedi questo questo non è Dio però dietro di tu dietro di quello c'è una fiamma e questa fiamma è la parte divina in ognuno di voi una volta Yogananda stava in un albergo non mi ricordo penso che era la città di Minneapolis e ha visto un uomo nel lobby dell'albergo che era ubriaco e questo ha visto Yogananda ha detto salve Gesù Cristo come stai Yogananda ha visto che era com'era e questo tipo è venuto abbracciato Yogananda come un vecchio amico sai perché perché quando tu vedi uno che conosce Dio conosce te anche lui è più vicino a te che qualsiasi madre padre fratello tutto lui è te e perciò tutti amano i maestri e questo Yogananda ha pensato ma vorrei condividere questa perché lui era ubriaco e questa ubriac 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 questa è una gioia falsa il mondo è pieno di gioie false Yogananda volevo farlo capire un po' la gioia vera e lui ha dato una benedizione a lui e lui ha detto mamma mia che stai bevendo tu e lui ha detto ha una forte ti spinge fortemente e poi lo ha lasciato normale è un po' stordito un po' confuso per questa nuova realtà che aveva affrontato però questa gioia è una cosa che non ti separa quando leggo qualche cosa che viene dal Vaticano di non meditare perché questo ti separa dagli altri oh no ti lega agli altri ti fa capire che tutti sono i tuoi fratelli e sorelle che tu sei anche loro e crea un ponte tra te e tutti gli altri questa è la religione e così quando San Francesco è andato al era Saladin in Palestine Malestine e lui ha capito subito che questo pure che era un cristiano era un uomo di Dio quando c'è questo amore per Dio non ci sono differenze quando parliamo del bisogno nella religione di unire religioni dobbiamo capire che può soltanto riescere se noi amiamo Dio e viviamo in quell'unità in quell'unità capiamo che tutte le regioni non siamo cristiani giudei ebrei hindu musulman no siamo figli di quel signore siamo lui e questa gioia lo definisce ognuno nel mondo è un devoto perché ognuno cerca di lasciare l'illusione della sofferenza e di trovare la gioia della vita però se tu guardi intorno a te poche poche persone hanno capito cos'è la gioia da dove viene la sofferenza e perciò uno vive per tante vite finalmente per arrivare al punto dove uno capisce che io sono veramente fatto di quella gioia sono un raggio della gioia di me stesso Dio non è che io voglio incoraggiarvi di dire ah ma io sono Dio no non sei Dio se puoi parlare così mi ricordo una volta che ho parlato con un uomo era un orso umano così un po' rozzo veramente della maniera e della carattere e stavamo parlando dei maestri in India e dei santi e tutto ho detto ho detto a lui ma forse nella mia vita ho incontrato sei persone che hanno conosciuto Dio veramente con una mano grande ha detto dammi la mano ha incontrato il settimo ma vedi quando tu trovi uno quando tu trovi uno che veramente ha quella coscienza è una cosa che non puoi non sentire qualcosa le persone mi hanno detto che la prima volta che hanno visto Yoga Nanda da una distanza hanno sentito subito questo è l'uomo più spirituale che ho mai incontrato e veramente devo dire che non voglio farvi non voglio non sono qui per convertire nessuno e non voglio pensare ma solo lui solo lui no ognuno ho incontrato altri santi è la stessa cosa devo dire che lui era per me il più grande ma questa è una cosa anche personale perché anche in loro era la stessa vita la stessa gioia una donna che mi ha veramente ispirato molto era una santa che si chiamò Ananda Moima e lei è andata una volta da solo da sola e si è seduta sotto un albero e qualcuno è passato ha detto ma chi sei perché sei qui e era così qualcosa lo ha ispirato tanto è andato a prendere altri dopo un'ora c'era tutto il villaggio intorno a lei e quando lei ha deciso di andare tutti stavano piangendo per una persona che non è una sconosciuta ma questo è la verità della religione non importano i dogma non importano quello che tu dici per definire definire la definizione di una cosa non può essere uguale alla cosa la definizione è sempre una diluizione della verità non pensare che tu capirai più tu hai potuto definire più tu definisci più tu capisci la comprensione è una cosa prima del cuore più tu vivi in quell'amore più tu vivi in quella gioia più tu vedrai che la verità veramente è uno che la vera religione non è cristiano è musulmano hindu buddha niente di quello è l'anima individuale l'anima e la sua relazione all'universo alla verità universale il tuo rapporto con quella verità infinita è la religione cerca sempre di vivere nella gioia e capire che questa gioia viene da dentro non è che vendendo un bel gelato tu hai la gioia guarda la televisione e tu avrai un'impressione completamente falsa perché tutti ah che bella che bella cosa ho comprato che bella esperienza ho avuto questa eccitazione non è la gioia la gioia è sempre calma ho conosciuto un santo nel sud India che non sorrideva nemmeno però guardandolo negli occhi c'era una gioia che non si poteva negare quella cosa che della quale parlo non è una cosa esterna è uno stato di coscienza più tu sei calmo in te stesso più tu troverai questa gioia che non cambia ed è questo che voglio voglio venire per parlare di introdurti a te stesso semplicemente introdurti a te stesso non è da convertirti a questo sentiero l'altro sentiero tutti possono amare questo tutti si amano anche e fa parte dell'antura umana però la gente non ama la parte giusta di se stesso la gente ama l'ego invece dietro l'ego c'è una parte che non cambia tu sei fatto nell'immagine di Dio e più tu puoi emanere vivere ed emanere questa gioia più ti vedrai che ovunque tu vai troverai amici c'era un bel santo non lo conoscevo era prima del mio tempo però è venuto in America senza soldi qualcuno lo ha dato un biglietto per la nave così è venuto e quando la nave stava per entrare il porto di San Francisco qualcuno si era avvicinato a lui ha chiesto ma lei sa dove andare una volta che la nave arriva no lei non sa dove andare no lei non sa niente di questo paese no con un bel sorriso ma avete amici sì ho uno e chi lo è chi è eh l'amico è tu e lui era così cattivato da questa questo atteggiamento che lui veramente lo ha ha preso sotto la sua protezione lo ha fatto dare conferenze lo ha mandato indietro ma quando tu veramente quando tu vivi in Dio tu vedrai che tutte le porte aprono la mente ragionevole non può credere questo però così succede che lui fa tutto è soltanto noi che non lo lasciamo fare tutto e quando tu vedi tanta sofferenza non è che Dio ti odia non è che Dio è una persona con pregiudizi niente di quello Dio ama tutto però loro si chiudono tutti coloro che si aprono a lui e veramente se lo fanno coscientemente mettere le mani nelle sue mani tutti capiscono non è una cosa particolare come voi che avete letto l'autobiografia di noi yogi e Yogananda è andato per esempio in quella bella storia a Brindaban vicino a Agra e lì senza soldi senza niente ha incontrato uno e questo ha voluto guidarlo nella città di Brindaban Yogananda anche ha detto no e lui era così triste e ha detto ma non vuole che vi accompagno ma perché ma ho avuto una visione di lei Krishna mi è venuto stamattina ha detto che lei era qui e che lei era il mio guru e perciò che sono venuto è così cosa poteva fare Yogananda ma ovunque lui andava era così e voi nelle vostre vite lui non era diverso di voi i maestri non vengono sulla terra per farci vedere quanto erano belle e grandi loro Gesù Cristo non è venuto per dire dichiarare a tutta l'umanità io sono soltanto io sono no è venuto per farci capire chi siamo noi noi quello che lui lui lo ha detto anche quello che ho fatto io voi dovete fare anche più grande cose perché io vado al mio padre dobbiamo capire che noi siamo tutti uguali figli di Dio e lui vuole ha promesso e l'ho fatto tante volte ha guidato ha aiutato in tanti piccoli modi ognuno può ricevere se chiede nella maniera giusta non egoisticamente non per prendere ma per donarsi a Dio quando c'è questo bel rapporto tra l'anima e l'amante infinita uno trova che è sempre sostenuto Dio è per tutto tutti Dio è per te e non importa quella quale religione esternamente tu decidi di seguire ma ami ami lui in te stesso senza nome senza forma o con nome o forma lui è disponibile a tutti però tu vedrai che questo è una verità ed è per questo che vengono i grandi maestri per farci capire e darci la fede che sì è vero e io che ho avuto questa grande occasione di vivere con uno di questi grandi maestri per tre anni e mezzo io posso dichiarare con molta convinzione che sì è vero queste cose ho visto con questi due occhi e io sono assolutamente convinto che voi siete la stessa verità grazie a voi grazie